Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Allora, oggi sono qua Sì, con la Giulia L'opera vita, dai, dai, mia che trovo Allora Apro una parentesi Molto grande, una premessa Mi è arrivato Adesso vi faccio vedere Questa cosa Abnorme Ok, dalla Corea Del sud Avete già intuito cosa potrebbe essere, ma non sapete cos'è Ok, ovviamente È un DVD Perché è un DVD del concerto Allora, shiny world numero 4 Il famoso sogno Il sogno di una vita è finalmente Di fatto tra le mie mani Siccome non avevo voglia di fare, diciamo, l'unboxing Quello così, perché avevo bisogno di schierare Mali Ho deciso di fare, appunto, questo video Insieme Perché dobbiamo vedere Dobbiamo vedere, dobbiamo vedere cosa c'è dentro Ok Allora Allora C'è anche il tappetino del mouse Con le firme Ma va? Oddio Che figata Che figata Si può, basta, non si può Basta, non si può È un po' il lato 32 euro questa cosa Non il tappetino Non il tappetino Nome Ho paura Madonna è La cosa divina Capite La cosa di Madonna, guarda che librone Ma vuol dire che c'erano tante cose Allora Anche loro Senza di shiny Senza di shiny Staccare le pagine Ma non lo farò mai nella vita No, auguriamoci Tipo no Si tengo le pagine che non si sa mai Si esatto Eh vedi sono fragili Vabbè Qua Shawwall Tranquille Con certo Molto tranquille Che vabbè Non come me Che scriverei ma Ti fa cose con Vabbè Le firme Dai dai Fammi la riconosci Riconosci le firme Tipo Si Che indovina Esatto Già cominciamo male Aspetta che In bianco Ok niente Ecco Madonna Con questi vestiti Ma sai in ogni pagina La loro firma Questi vestiti Si Ma i fatti Che belle cose Io pure di spaccare tutto Madonna Your number Ho visto your number Madonna 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 Chi c'è davanti Questa bella Sweet 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 Ah Taimin Biong Va bene Un po' che ridolo D'accordo Madonna Che l'hanno messi tutti L'hanno messi tutti No allora io ho qualche problema Con Taimin e Mino Questo Ho capito Da parte che stanno tutti bene Ti ho capito Però loro mi creano Questa bella Sì sì Basta vedere Daaai Dovevo tornare al video Dai No 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 Qua no Qua no Qua sono i pianti Su questa esibizione E poi loro Col cappello Anche loro Cappelli Sì Madonna Tu non puoi capire Non puoi capire Questa Non puoi capire Non puoi capire Non puoi capire Che problemi Che disagi Tutto Non so che stai piangendo in realtà Sì sì Vabbè dai qualcosa di tranquillo dai Sì Qualcosa di tranquillo Per modo di dire Vai piano Ho paura Ho paura Guarda No 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 Perché È bellissima questa foto No Ti presto Io ho bisogno Di una foto così Da mettere nel telefono Come foto sfondo Esatto Oddio è bellissima O poster gigante È bellissima Poi con Io ho un nome Ok No Ma perché È il primo Oddio Sì Madonna Mamma mia Ma che foto Allora c'è anche la dedica Ecco grazie Grazie Per buono Per Giulia Proprio E Posso andarmene Scusate C'è qualche disagio C'è anche quella di prima Ah scusate È il disagio Appunto È il disagio Mamma mia Ma che belle foto Madonna Poi in verticale Esatto Disagio doppio Il bianco e nero qua Madonna È bellissima Questa foto È tipo Eterna bellezza Bellezza Non che prima non era Sì ma tutto Mai fare Madonna Oh Dio Da notare tutto Oh mio Ma per lui Questa foto Mi è venuta la fissazione Per il collo È bellissimo È troppo bellino Basta E Ok Ok Un pink È bellissimo Lui è troppo dolcino Cioè Vabbè Io pure di andare avanti Ok c'è chi Va bene C'è chi Benissimo Beh però Però Scusatemi Mi fai morti Scusami Mi hai fatto Tutti i giochi Sono tutti i primi Mi hai fatto Ma c'è chi Fatta Scusa Scusa Magari Se mai guarderai Questo video Sei bellissimo No Io non ci ho Facima Io non ci ho No Scusate Io posso No 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 e chiudiamo il video qua Siamo Scusa Io non posso girare Io non posso girare Allora aspettate Aspettate Foglio vedere a loro Aspetta che c'è Aspettate Foglio vedere Ma c'è anche il mio dietro Ok Ok Va bene Avete capito No La cosa Ma favi vedere Che dovevo quella vista Ma scusa Ma guarda Che si vede fatto il contrasto Tipo Per favore Qua Vini qua 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 Adesso Subito Prendi la Qua Guardiamo Guarda le vene Tipo Ok basta Io vado avanti Hai presente Vedete la tachicardia Che avevo Per Dai Guardalo che bello Non si può Non si può Io sto piangendo Vi giuro Io tachicardia Che bello sei Che bello sei Ancora Guarda Voglio farti morire Guarda Con questo outfit Vi prego Ma va benissimo Anche senza outfit Vabbè ma con tutto Basta Ti prego Dite perché è finito No c'è Timmy adesso C'è Timmy me lo sento Eccolo Con gli ornambe Infatti ti hanno gli ornambe Per primo Sì infatti ho notato Ma perché questa cosa No un corpo Non è un dynamite Esatto A parte Stavo dicendo A parte Mino Che era Vabbè Ma basta Gira Ancora Oddio Oddio Che moto è Ma quella è Della Della Così c'è Quando erano Dentro la cabina Esatto Oddio che bello Che bello Eh vabbè Scusa Scusa Ma voi non potevano fare Tutto quanto Tutte e due le pagine Ma infatti se voleva Non c'è nessun Procumino dietro Ok Eccoli qua Tutti insieme Nel backstage Perché dovete Farmo lì Nell'asino Dai No ma Bella questa No Prego È bellissimo Scusate Scusate Un attimo Sì Peccato che è troppo divino Per essere toccato Capitato Esatto Adesso ci sono le foto Adesso Attenta che adesso C'è Milo No 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 C'è chi Prima C'è chi Prima Per fortuna È bellino È bellino Sì È la versione Edito Scusami Scusami Scusatemi E tu Perché C'è 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 Esatto Wow Scusami Scusami Tipo che Lo riguarderei Volentieri Adesso Lo riguarda Ok basta Questa che l'avevo Scherato che basta Sì fin troppo Basta E niente Iscrivete Quello che volete Guardate Questo video E comprate Questa 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 Ovviamente Voi lasciate un like Come sempre E Basta Ci vediamo Al prossimo video Ciao